Salve e benvenuti al nostro amico libro che offre ancora una volta delle divagazioni attraverso luoghi, personaggi, collegandoci a una storia molto lunga di religione, di lettere, di arti. Partiamo ancora una volta da un argomento biblico, scritturistico. Per le Dioniane di Bologna, l'Associazione Biblica Italiana, nei supplementi alla rivista biblica di Michele Grassilli, Santificali nella verità. È una tesi di dottorato, sottotitolo Il rapporto tra santificazione e missione nel Vangelo di Giovanni, come tutti sappiamo, sono dei riferimenti assolutamente importanti, centrali nel quarto Vangelo. E dunque intanto chiarire i termini come ogni buona dissertazione deve fare. Purificazione, santificazione. E poi invio missione nelle parole di Gesù, nella missione degli Apostoli che comincia subito. Dopodiché una riflessione sulla teologia di Giovanni, è naturalmente uno studio anche dei termini, i termini greci in cui la lingua in cui il Vangelo, il quarto Vangelo è scritto, e si passa poi a quelle che sono le applicazioni, le connessioni tra missione e apostolato, tra santificazione e missione, fino ad arrivare alla preghiera di Gesù per gli Apostoli, appunto, santificali nella verità. E accostiamo, per una affinità di contenuti, questo libretto, Tascabili Paoline, Pascal, Dio degli Uomini, brani scelti dai pensieri ed altri scritti. Pascal, siamo nel Seicento francese, una reazione al razionalismo di Cartesio o Descartes. E allora queste panse giustamente famose, ma anche altri scritti, Lettere Pascal è stato anche un grande scienziato, ha avuto parte nel movimento di Port Royal. E allora qui, dopo una introduzione che inquadra la figura e il pensiero di questo filosofo, pensatore, scienziato, uomo dalla forte spiritualità che supera una crisi, si converte, alcuni, appunto alcuni pensieri, così, sete di verità. Parlando delle cose umane, si dice che bisogna conoscerle prima di amarle. Cosa diventata proverbiale. I santi, invece, parlando delle cose divine, dicono che bisogna amarle per poterle conoscere e che alla verità si arriva solo passando dalla carità, come è stato detto in una delle sentenze più utile. Vedete, per caso, siamo caduti non nelle panse, i pensieri più famosi, ma il titolo, possiamo inquadrare, è riportato nell'originale francese, lo spirito di geometria e l'arte di persuadere. È in nota, riferimento a Sant'Agostino, non si entra nella verità se non attraverso la carità nell'opera contro Fausto Manicheo. Quindi un libretto, per quanto di dimensioni contenute, che dà un'idea sufficientemente ampia del ricco pensiero di Pascal. Andiamo indietro al pensiero degli antichi. Abbiamo detto che amiamo trascorrere per spazi e tempi. Allora, dalla Universitaria di Trieste, Aristotele Ambiguo, qualche riflessione sulla poetica di Maria Grazia Bonanno nella sezione greca tergestina. Tergestina, lo ricordiamo ancora una volta, sta per Triestina. E dunque in questo libretto, anche questo smilzo, ma molto profondo, uno studio sulla poetica di Aristotele per dire che Aristotele non è affatto ambiguo. C'è una coerenza di pensiero, nella poetica si ricollega alla metafisica, si ricollega alle altre opere per delineare appunto la lunga attività di Aristotele che ha insegnato e di cui abbiamo ereditato le opere. Sempre nel mondo antico, nel mondo dei greci, di Mauro Bonazzi, con gli occhi dei greci appunto da Carocci. Questo volume invece, a differenza del primo, non è dedicato a un solo autore e in particolare a una sola opera, abbiamo detto, la poetica per quanto collegata con le altre opere, ma come possiamo vedere dall'indice, si parte dall'Iliade e dall'Odissea con titoli che danno in qualche modo un'idea di queste opere. Il poema della forza, l'Iliade naturalmente, la nostalgia, il nostos di Ulisse che deve tornare in padre, poi a mano a mano Eraclito, Antigone, quindi si trascorre dall'epica alla tragedia, alla storiografia tucidide, tra i curdi come noi oggi li chiamiamo, e poi la linea di pensiero, la linea di trasmissione, Socrate, Platone, Aristotele con questo titolo, Tradimenti, e poi ancora l'amore platonico, filosofi al potere nella rivisitazione che Heidegger ha fatto del pensiero greco fino al rottamatore che sarebbe Epicuro con la sua filosofia appunto della quiete, del disinteresse, della felicità. Certo non nell'accezione volgare, fatta proprio anche da Orazio, ricordate l'espressione, Orazio si definisce Epicuri dei grege porcus, un porco del grege Epicuro, ma il pensiero di Epicuro è più nobile, di distacco, di equilibrio tra piacere e sofferenza. E andiamo avanti con un'altra sezione. Siamo alla Universitaria di Firenze, nella sezione Storici e Cronisti di Firenze, Bernardo Rucellai, a qualcuno ricorderà gli orti oricellari, Bernardo Rucellai, De Bello Italico, vedete già nel titolo, l'originale latino De Bello Italico e la traduzione italiana La Guerra d'Italia a cura di Donatella Coppini. E siamo appunto in questo clima del passaggio tra il Medioevo e il Rinascimento. Siamo nell'epoca degli Sforza a Milano, Luigi XII re di Francia, con le varie alleanze, tradimenti, descrizioni di guerre, di battaglia, molte volte in modo sintetico, ma efficacissimo, che fanno vedere la realtà tragica appunto dei cadaveri squarciati, degli animali che vengono abbattuti. Insomma, l'orrore della guerra. Abbiamo annotato alcuni passaggi particolarmente significativi, ne leggiamo almeno uno. Il desiderio di vedere, di saccheggiare, non appena fu consentito dalla partenza dei nemici, si mise a perlustrare le tracce del recente combattimento e dicono che la maggior parte dei cadaveri giacevano colpiti di fronte, alcuni, ciascuno come la morte lo aveva sorpreso, conservavano ancora sul volto l'espressione della violenza con cui avevano combattuto. Si poteva assistere a una strage tale che da molto tempo la terra italica non ne aveva visto una più grande. Ogni barbarie, ogni più torpe crudeltà vi fu rappresentata. In lungo e in largo la pianura fangosa era ricoperta di cadaveri, di uomini e di bestie e di una gran quantità di armi e macchine da guerra, mentre la terra era fumante di sangue e impregnata di marciume. Gli italiani infatti avevano acquisito il costume barbaro di inghiottire monete e oro lavorato perché i nemici non se ne impadronissero e per tirarlo fuori dai visceri tutti i cadaveri venivano squarciati. Spettacolo orrendo. Questo significa la visione diretta o la presa indiretta di cosa significa la guerra che noi magari poi con i secoli leggiamo come cronache lontane ma che qui rivivono. E passiamo alla Universitaria di Pavia Federico Piseri pro necessitatibus nostris per le nostre necessità per le nostre esigenze il sottotitolo chiarisce rapporti tra stato sforzesco operatori economici del dominio e prestatori esterni 1450 1468 quindi siamo nello stesso torno di tempo ma passiamo dalle motivazioni politiche ideologiche le ambizioni di signori principi e re alle considerazioni economiche finanziarie che sono importantissime vedete abbiamo sotto gli occhi questo titoletto vi è grande mancamento di entrata per fare la guerra ci vogliono i soldati i quali molte volte sono mercenari che se non pagati regolarmente si rivoltano contro il signore allora vedete c'è una ricchissima documentazione fatta di grafici di cifre di nomi per vedere come in realtà in questo caso lo stato sforzesco siamo a Milano deve contare sulle proprie risorse che regolarmente non bastano deve ricorrere ai prestatori con naturalmente l'aggravio delle tasse da pagare perché si instaura un circolo vizioso cioè queste case supponiamo i medici a firenze o gli stessi strozzi o altri pensiamo poi più tardi fugger di germania conoscono i rischi della guerra conoscono i rischi di non rientrare nelle somme prestate quindi alzano i tassi di interesse un vero circolo vizioso appunto e dalla olski di firenze nella biblioteca della rivista di storia letteratura religiosa di barco giardini figure del regno nascosto le leggende del prete gianni e delle dieci tribù perdute di israele fra medioevo e prima età moderna siamo ancora nello stesso torno di tempo questo mitico e mitizzato regno del prete gianni che non è mai esistito ma di cui abbiamo una storia una cronaca leggendaria e viene accostata un'altra storia ugualmente leggendaria delle dieci tribù di israele che sono allontanate dalle guerre portate dai romani dalle rivoluzioni regolarmente fallite a gerusalemme e nello stato di israele e sono due storie appunto che si incrociano tutte e due ugualmente leggendarie pure persistenti e documentate veniamo all'america intanto il nobel per la letteratura bob dylan tutti credo siamo al corrente intanto penso un cantautore notissimo indubbiamente molto bravo e poi le vicende del nobel con il silenzio con il rifiuto con gli ammiccamenti ebbene la feltrinelli quelli che si chiama un instant book manda in libreria un volume in realtà datato datato nella sua composizione originale datato anche nella edizione italiana ma viene riproposto tarantula ci sono diverse spiegazioni di questo termine piuttosto oscuro nel volume vengono riportato ecco in bella evidenza premio nobel per la letteratura nella universale economica feltrinelli una inquadratura completa del della storia della fortuna del cantautore e leggiamo soltanto è un qualche modo tra fiction e romanzo autobiografico con molti cenni naturalmente alle composizioni dello stesso dylan e vediamo questo questa lettera da desolation row guida alla lettura di tarantola non passa molto tempo dal 24 gennaio 1961 data del suo arrivo al greenwich village prima che a bob dylan venga in mente di scrivere un libro il 26 aprile 1963 durante un'intervista radiofonica alla wfmt di chicago lo studioso di storia orale sad sterkel gli chiede quante canzoni ha composto fino a quel momento dylan risponde di averne composto più o meno 75 e aggiunge adesso sto scrivendo un libro un'autobiografia chiede terkel si risponde dylan ma è la mia prima settimana new york e via di questo passo per ricostruire la genesi appunto di questo di questa autobiografia e della prima produzione di cantautore di carattere molto diverso ma è l'america da marietti american dream è un'espressione classica il sogno americano il sogno americano di bob dylan il sogno americano dei milioni di immigrati in america ma anche il sogno americano in viaggio con i santi americani li vediamo in copertina a cura di matthieu cesar e pietro rossotti di questi santi americani che alcuni pochi nativi altri immigrati missionari abbiamo non solo i profili ma anche una bella antologia allora mano a mano i martiri gesuiti nord americani e abbiamo anche recentemente un film di martin scorsese dedicato a questi martiri gesuiti in america poi cunipero serra che evangelizza il messico damian de voyster che è un fiammingo missionario il missionario di molokai l'isola dei lebrosi venendo ai nostri tempi catherine drexel morta a metà del secolo scorso come dicevamo insieme ai profili biografici anche una antologia dei loro scritti delle loro lettere andando avanti da sellerio di palermo andrea camilleri notissimo la cappella di famiglia e altre storie di vigata dal nostro punto di vista insieme alla vivacità notissima del padre di montalbano c'è questa mescidanza di italiano e di dialetto saciliano che noi troviamo incantevole abbiamo letto non abbiamo mai il tempo di leggere tutto abbiamo letto il primo dei racconti vediamo nell'indice in modo da ricordarli tutti ecco il duello è contagioso e c'è appunto questa sfida una prima sfida alla quale c'è una seconda una terza la quarta poi la conclusione divertente vediamo di dare un'idea ecco arrivano i carabinieri quando si deve svolgere questa mattanza di una serie di sfidanti e sfidati fermi tutti siete in arresto va a sapere perché vigni a tutti da ridere una risata longa forte liberatoria mezz'ora appresso si nigliero a caccia ficero stragi di lepre di pernici la schiticchiata può rinesci una meraviglia tornare a vigata ambriachi cantando con quanto sciato avivano l'ognoraro sempre ma san giurlanno san calò san michele san anselmo il doviri loro l'avevano fatto l'epidemia di duello era passata e da lui la vigata di duelli non se ne parlò più perché mentre si succedono queste sfide ci sono delle pie donne che pregano i santi arrivano i carabinieri e fingono che si stanno preparando ad andare a caccia caccia che finisce poi con una bella mangiata e bevuta drammatico invece questo volumetto che si ricorda il nobel dario fo recentemente scomparso che insieme a florida kazaku la figlia del tragico protagonista su un uomo bruciato vivo storia di jon kazaku da chiare lettere è appunto un operaio rumeno che reclama i suoi giusti diritti e il padrone gli sparge addosso della benzina gli dà fuoco e nonostante le cure muore appunto in seguito a questo a questo misfatto dunque da chiare lettere un uomo bruciato vivo storia di jon kazaku da sellerio di palermo di andrea camilleri la cappella di famiglia altre storie di vigata da marietti american dream in viaggio con i santi americani e da feltrinelli bob dylan tarantula da leolski marco giardini figure del regno nascosto le leggende di prete gianni e delle dieci tribù perduti di israele fra miglio e prima età moderna dalla universitaria di pavia di federico piseri pro necessità di bus nostris rapporti tra stato sforzesco operatori economici del dominio e prestatori esterni mentre dalla firenze universi di press di bernardo rucellai de bello italico al mondo antico greco in modo particolare sono dedicati dalla carocci di mauro bonazzi con gli occhi dei greci e dalla universitaria triestina di maria grazia bonanno aristotele ambiguo qualche riflessione sulla poetica eravamo partiti dalla bibbia come amiamo fare dall'edioneano di bologna di michele grasselli santificali nella verità il rapporto tra santificazione e missione del vangelo di giovanni e nei tascabili delle paoline pascal dio degli uomini brani scelti dai pensieri da altri scritti abbiamo una ricca sezione conclusiva dedicata all'arte in queste passeggiate tra luoghi e tempi intanto dalla galleria ed europa per le edizioni del cigno white soul anima bianca tre artisti giovanni casellato mirandolina di pietrantonio e veronica gaido vedete queste composizioni ci sono anche le immagini degli artisti si chiama si dice arte moderna ognuno può avere la sua idea noi coscienziosamente la presentiamo e la fidiamo come tutto il resto al vostro giudizio un bel volume dall'istituto storico dei cappuccini carla benocci un architetto cappuccino nella roma barocca fra michele bergamasco e se diciamo roma barocca diciamo il centro non solo dell'italia ma del mondo tra 500 e 600 un autore meno noto anche perché sono molto più note in genere gli autori gli artisti parliamo di artisti gesuiti ma anche questo fra michele bergamasco cappuccino è notevole il volume tutto riccamente illustrato per far vedere le sue opere i suoi stretti rapporti con papa barberini urbano ottavo che aveva un fratello cappuccino e questo michele bergamasco che ha una visione diversa non è una novità i gesuiti sposano lo splendore barocco mentre i cappuccini si mantengono su un'arte molto più sobria ma riesce a realizzare dei veri capolavori l'appendice a colori ci fa vedere appunto la sua opera sono chiese sono monumenti e sono architetture in cui entrano anche delle opere pittoriche un quaderno ricco di francesco de nicolo quaresima e settimana santa a terlizzi storia ed iconografia di un rito per le edizioni insieme che noi riceviamo volentieri mandando anche un saluto al motore mobilissimo di queste edizioni insieme che salutiamo e ringraziamo e allora anche qui la storia una storia di religiosità popolare una storia di devozione popolare con i manufatti con le opere diciamo d'arte in senso generale anche se non sempre arte eccelsa ma certamente frutto di una appunto devozione popolare e abbiamo anche delle composizioni poetiche sono canti sono preghiere e abbiamo i testi originali un meredissante la madonna se mette umanda la madonna se mette umanda ma non via cucacciaia e sola sola se parta maraia moacchia san giovanni eccetera eccetera ci sono anche le traduzioni in italiano come in questo caso maria desonata la passione del signore e concludiamo per davvero con un nuovo editore che salutiamo e ringraziamo sassi di luca trevisan vicenza arte architettura e paesaggio e naturalmente vicenza possiamo inquadrare ci ricorda il palladio ma non solo vedete è un volume in grande formato ricordiamo che le edizioni sassi vengono da schio e insieme alle notizie storiche sui manufatti sui palazzi sugli artisti delle splendide immagini dicevamo vicenza ci ricorda il palladio le ville palladiane ma giustamente l'autore dice vicenza non è solo il palladio vicenza comincia già in epoca romana e poi a mano a mano potete vedere lo splendore delle architetture delle immagini con una piccola sezione conclusiva che guarda agli ambienti ai paesaggi circostanti per avere un'idea di vicenza con cui chiudiamo questa nostra puntata di amico libro con il solito ma sempre cordialissimo buona lettura e arrivederci ciao 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 ciao